Con Wishlist i regali aziendali vengono meglio. Wishlist è un elegante cofanetto regalo di prodotti, il primo in Italia. Disponibile in due formati, il cofanetto classico, pronto per essere regalato, con oltre 200 prodotti tra cui scegliere, oppure il My Wishlist. Il cofanetto personalizzabile al 100%, dalla selezione dei prodotti alla copertina, fino ad una dedica, per fare sempre un regalo unico. I tuoi clienti possono finalmente scegliersi il loro regalo. E tu sei sicuro che sia sempre il regalo gradito. Chi riceve il cofanetto accede alla pagina di Richiesta Dono, dove ritrova il tuo messaggio e la tua immagine. Il tutto disponibile anche in versione digitale. Rinviare regali istantanei e personalizzati direttamente dal tuo ufficio. Dimentica pure problemi logistici, card anonime, i classici regali aziendali sempre uguali. Con Wishlist, i regali vengono meglio!